Tempra Station Wagon, finalmente un'auto pensata per tutta la famiglia. C'è spazio per tutto, per le valigie di mamma e per il lavoro di papà. Perfetta per viaggi in completo relax, Tempra Station Wagon è un'auto ideale sia per la dinamica vita di città, sia per i sereni weekend nella natura. Tempra Station Wagon, più spazio alla vita.